E' vero che il tennis crea problemi alla colonna vertebrale? Falso, falso perché si diceva una volta che tutti gli sport monolaterali favorissero lo sviluppo di scoliosi o deviazioni angolari della colonna. In realtà si è visto che la preparazione atletica che ormai si associa sempre a qualsiasi sport e soprattutto l'elemento più importante, la voglia con cui il bambino esegue quello sport, è l'elemento principale di prevenzione della deformità. Il nuoto è lo sport ideale per una corretta formazione osteomuscolare? Diciamo che il nuoto è in parte vero, perché anche il nuoto può far danno. Soprattutto favoriti sono il dorso e il libero, lo stile libero. Bisogna valutare da caso a caso il nuoto a rana e il delfino che potrebbero presentare delle controindicazioni. E' vero che palavolo e basket fanno allungare lo scheletro ma danneggiano le ginocchia? No, diciamo che sono sport che senz'altro sollecitano, ahimè, sia la colonna vertebrale che gli arti inferiori. Soprattutto la palavolo nell'iperestensione della colonna lombare, che quindi può dare problemi. Soprattutto, ma oggi non si vede più tanto, quando sia nella basket che nella pallavolo vengono fatti degli allenamenti di potenziamento, di salto con pesi applicati alle spalle. E' vero che si dovrebbe fare sport a livello agonistico solo dopo i sei anni? Vero. E sinceramente sei anni eppure un'età troppo bassa. Io penso che lo sport agonistico dovrebbe arrivare ai dieci anni, dove il bambino sta già strutturando le sue capacità di gestione emozionale. Perché l'agonismo è un'emozione forte e non facile da gestire. Perché l'agonismo è un'emozione forte e non facile da gestire.